La form volendola possiamo andare a realizzare in due tipologie adesso vedremo la prima e poi in un altro esercizio vedremo come realizzarla in un secondo metodo innanzitutto dalla tab quindi di ibrido possiamo prendere form senza problemi e la form in automatico si va ad agganciare al lab ma noi vogliamo che essa sia agganciata al nostro domain infatti vediamo che possiamo andarla agganciare al domain e poi io voglio che sia comunque anche agganciata soltanto ad alcuni dei nostri elementi per esempio non voglio che sia influenzata dalla gravità ma voglio che sia soltanto limitata da alcuni elementi come per esempio soltanto quello che riguarda quindi la nostra area salva la nostra safe area quindi dai nostri demon della safe area quindi di conseguenza io il kill per esempio speed lo posso anche non mettere perché poi dopo vedremo perché e posso andare ad agganciare tutto quello che è diciamo inerente la mia safe area quindi tutti i vari demon kill volume che io mi sono creato precedentemente per passiamo un attimo andare a chiudere ecco per avere ok facciamo anche questo ovviamente una volta che io ho finito la simulazione degli splash posso andare a metterla in cache in modo tale che almeno non peserà sopra la mia fase di simulazione ma avrò soltanto la simulazione della form la form è libera non ha un domain volendo si può dare un domain andiamo a vedere i suoi parametri volendo li possiamo anche chiudere perché così almeno li vediamo un pochino tutti insieme meglio poi magari potremo nelle prossime lezioni utilizzare anche un'interfaccia differente però a parte questo qui ho sicuramente se il nodo è attivo oppure no la form non ha un'influenza a livello di di tipologia di particles vengono create delle particles che comunque sono un formato che è già formato diciamo liquido come potremmo dire è un sono delle particelle sostanzialmente quindi non sono assolutamente delle dei liquidi sono proprio particelle che seguono determinate tipologie di di logiche di algoritmi quindi sono delle particles con una densità che possiamo lasciare mille senza nessun problema possiamo dare un bounded quindi possiamo avere questo bounded che sostanzialmente mi va a definire dove verranno create ok quindi io le posso creare dove voglio all'interno di questo bounded oppure le posso lasciare liberamente all'interno del mio elemento volendo si può creare bounded e si può andare a scalare come è stato per il nostro bounded degli splash però non io preferisco lasciarle libero per una questione di rapidità non tanto di ottimizzazione ma di rapidità nella costruirle volendo possiamo crearle da le bubbles che è quest'altro elemento che troviamo qui sono le bolle che poi andremo a vedere come poterle utilizzare le bubbles o dal domain o direttamente comunque dagli splash logicamente io posso scegliere di realizzarle dalle splash senza problemi ovviamente le bubbles non ci sono quindi posso anche toglierle e non 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 averle ok di conseguenza avrà un calcolo più veloce anzi anche se non ci sono lui non non le considera quindi possiamo anche già lasciare la spunta visto che non non sono presenti e quindi di conseguenza non vengono calcolate ma qui abbiamo la possibilità di creare dal domain o dagli splash se dagli splash sostanzialmente viene creato dove sono gli splash se gli splash sono qui verranno create praticamente seguendo gli splash sul domain vengono create sulla base del domain quindi tutto quello che è il nostro domain viene sostanzialmente generato e quindi viene sostanzialmente generato in base a dove va a toccare sia il mio domain che quindi di conseguenza anche lo splash è un'aggiunta di conseguenza se io vado a vedere se io tolgo il check dal domain ho la possibilità di vedere abilitati o disabilitati i parametri della sua creazione di fatti qua abbiamo l'emission che è uguale identico sostanzialmente a quello che riguarda l'emission degli splash per esempio quindi io posso dare un valore qui per l'emission del emission rate e in questo caso posso dare un valore di volendo come abbiamo visto precedentemente hanno dato tipo 200.000 ma in questo caso siccome ne voglio molto meglio meno posso dare 150.000 qui ho la stessa, gli stessi concetti quindi l'angolo ho sostanzialmente la curva, la curvatura ho la velocità e questi parametri li posso lasciare così di default non mi vanno assolutamente a incidere sopra nulla nel senso non vanno a incidere troppo su come vengono create anzi già di default sono ottimi per la creazione della nostra schiuma successivamente ho quello che però è molto importante da sapere sono di fatti come viene creata la nostra dinamica ok? la nostra dinamica in questo caso qui andiamo a chiudere un po' quello che così almeno ci concentriamo solo su questo pannello perché è questo il pannello che ci interessa maggiormente perché? perché qui ho quanto viene staccata in base alla superficie quindi io potrei scegliere di creare la form non giacente sopra la mia superficie, sopra il mio domain ma leggermente staccata io in questo caso preferisco lasciare a zero anzi si predilige lasciare sempre zero perché si vuole che sia attaccata che sia parte stessa della particella lo strictness sostanzialmente è come quanto va a stirarsi a creare queste linee di schiuma tra un punto e un altro è come dire se io avessi un punto che crea una linea quanto a quanto è lunga questa linea? se uno quindi è molto lunga oppure zero sostanzialmente è inesistente io preferisco mettere uno in modo tale che almeno sia molto visibile specialmente in questo caso perché quando non so se siete mai stati in montagna però in un normale ruscello o in un torrente quelli che si possono trovare in qualsiasi percorso montanaro se mi passate il termine hanno comunque della leggera schiuma in realtà hanno tante bolle, tante bubbles che si vengono a creare e hanno comunque pochi splash dipende anche da quello che si vuole andare a realizzare e come è costruito sia il letto del torrente sia la velocità stessa del torrente in alcuni casi addirittura l'acqua è talmente piena di schiuma piena di bubbles che sembra bianca e quindi non oppure da lontano non sembra neanche acqua sembra del vapore che scende verso il basso quindi bisogna un pochino capire questo effetto e questo effetto per volerlo simulare all'interno di Real Flow con la form si può simulare tranquillamente l'ideale sarebbe farlo con le bubbles però si può simulare direttamente utilizzando questo strings quindi questo strings è molto lungo quindi ha una coda di creazione molto lunga possiamo lasciare a 1 quello che ci interessa poi qui che è fondamentale a mio parere è il nostro form min lifetime e form max lifetime sostanzialmente questo che è in base ai secondi è la vita della nostra schiuma ovviamente noi qui abbiamo una simulazione di 96 frame quindi è una simulazione molto corta che se è fatta in una scala di 24 o 30 possiamo andare a verificare in questo caso l'output è di 30 però se lavoriamo in un output di 24 96 frame è un output molto molto corto si sta parlando di 4 secondi e spesso nelle simulazioni se non è richiesto se non sono molto complesse è difficile proprio anche nel settore degli effetti speciali andare a realizzare delle scene che durino più di magari 2 secondi quindi 2-3 secondi spesso si vanno a realizzare magari delle scene addirittura io ho lavorato su degli shot dove addirittura alla fine andavano a prendere solo 3 frame ed è stata anche abbastanza comica perché io una volta ho detto al mio supervisor ma facciamo un lavoro talmente così complesso talmente lungo lavoriamo su questa cosa per 2-3 giorni e poi dopo il nostro lavoro sta in 3 frame eh sì a volte il nostro lavoro sta dentro 3 frame magari è talmente veloce quello che andiamo a realizzare che non lo possiamo notare e quindi è inutile magari andare a forzarsi troppo a dire io voglio fare una simulazione molto complessa molto lunga se poi dopo comunque quello che si va a realizzare deve stare comunque dentro pochissimi frame oppure può succedere che magari si lavora su una simulazione molto lunga per esempio si possono realizzare anche 40 frame e poi dopo tra il montaggio si riduce a 20 frame o a 15 frame quindi a una cosa molto corta che noi non la percepiamo però noi lo possiamo sapere che l'abbiamo fatto perché fa parte del nostro lavoro ma magari all'interno di tutto o comunque l'utente finale non lo percepisce perché vede soltanto qui 14 frame un esempio stupido un flash di uno sparo di una pistola oppure un flash di un fulmine magari dietro se fatto in CGI magari dietro ci sono ore e ore di lavoro per soltanto 10 frame e quando uno va a vedere il prodotto finale magari questi 10 frame non sono neanche così visibili questo è un po' un punto di vista quindi bisogna cercare anche di avere una giusta dose certo un secondo soltanto di simulazione magari se fatto bene conta più di 10 però magari già se dovete fare delle simulazioni cercate di stare sui 2, 3, 4 secondi al massimo perché è quello che poi comunque viene richiesto nel settore comunque degli effetti speciali ad ogni modo torniamo a noi torniamo alla nostra schiuma questo è il nostro lifetime quindi il nostro lifetime avendo una scala di 96 frame diamo un secondo quindi 24 frame però ragionando in secondi metterò 1 ok? se volessi meno quindi mezzo secondo 12 frame dovrei mettere 0.5 ok? quindi bisogna calcolarlo un po' come una frazione diamo un secondo mentre come massimo quindi la variazione massima che da lì in poi non avremo più particles possiamo mettere per esempio 2 oppure però anzi facciamo così diamo 2 come minimo quindi minimo della nostra vita e 3 come vita quindi saranno molto evidenti sarà molto evidente la mia schiuma ok? la minima friction è sostanzialmente l'attrito il minimo attrito che possiamo avere e il massimo attrito in questo caso lo lasciamo così di default perché sono due parametri già abbastanza utilizzati però è logico che il minimo attrito 0 non ha attrito 1 ha attrito quindi questo qui è un range che possiamo regolare come meglio crediamo volendo dalla nostra export possiamo andare a mettere il check anche in questo caso sul bin e lo mettiamo per una sorta di sicurezza e poi vedremo anche perché e volendo anche dal display noi potremmo utilizzare anche altre tipologie di colorazione abbiamo visto che gli splash erano bianchi e che magari erano abbastanza visibili la forma in questo caso lasciamo bianco in modo tale che poi dopo lo si può cambiare anche successivamente oppure io basta che clicco qui e posso andare a scegliere un colore differente per avere un'idea proprio di come esso si va a comportare una volta che io comunque sono andato a impostare tutto questo posso benissimo andare a lanciare la simulazione ricordiamoci di mettere in cache il nostro i nostri splash e di avere anche il nostro command line attivo una volta che io ho impostato tutto questo posso lanciare la simulazione e lanciando la simulazione mi si aprirà il command line e una volta terminato potrò vedere la mia form ultimata la mia form Grazie a tutti.